Hello guys, io sono Shen, sono qui con Space e benvenuti su MyGenChannel Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Unturned dedicato alla sistemazione un po' della casa degli intorni Allora, per prima cosa consiglierei di andare a prendere molto legno Esatto Quindi Andre, se riesci prenditi un'accetta Se la trovassi la prenderei Sulla Fire Station mi sembra che avevo visto un'accetta Sì, qua Ok Hai una zombie dietro Davvero? Un mazzolo Ok, mentre tu intanto inizi a raccogliere cibo Intanto notiamo che se non erro, l'aspetto grafico del gioco è cambiato col sole Ti lascio anche il Tactical Light Ok, metti la da qualche parte Sì, l'ho messa davanti al first stage Allora intanto fare una cosa Allora, mangiamo qualcosa Ok Prima di tutto Dove l'hai messo davanti al first stage? What? Eh, Fire Station, lì sulla porta piccola Ah, ok Eccola Tactical Light Cosa? Intanto una cosa I semi dove li piantiamo? I semi? Eh Adesso un attimo ci organizziamo Con calma Perché prima li piantiamo Prima li piantiamo Ok Posso fare una cosa molto tattica Posso fare una cosa molto tattica Posso fare una cosa molto tattica Ok 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 D'ora in poi si entra dalla finestra E ricordatelo Sì, sì Esplosivo crudo non ci interessa Qua Qua c'è un arco Ok Intanto come prima cosa Io metto qua sotto il mio letto Così Posso risponare qua quando voglio Io non ho il letto, non mi scostruiva Ah, io l'ho trovato il letto Ecco Eh Ma E lo metto E lo metto Claim Ok Ho cremato il mio letto A posto Ho trovato un'altra carola Adesso andiamo anche ad harvestare Allora, harvestiamo questo Così prendiamo una bellissima pannocchia Che ce la maniamo Crafting Questo Craft Ok Poi avevo anche un qualcos'altro Mi pare Ah sì La mall di carrot Craft Ok Equip La piantiamo Qua E il corn seed Lo piantiamo Qua Ok Questo l'abbiamo fatto Adesso sistemiamo un po' anche l'inventario Che non si sa mai Sai che tanto i zoom possono entrare, vero? Dove? Dove l'hai cantata questa roba? No, ho già chiuso la strada, fidati Quella lì, ma questa qui davanti è quella della? Eh, questa qua dovremmo ancora chiuderla Non è che ho tutto Non sono Gesù Cristo Non sono Gesù Cristo Devi essere Ma non lo so fare Allora mettiamo la Tattica light Ok, è ok Ok, per ora non posso fare altro per potenziare la casa, purtroppo Allora intanto guarda un attimo le recipes e le trovi al letto E come le faccio vedere? Eh... Ah no, vero, giusto Hai ragione Ok, c'è arrivato da solo Per chi invece stavano dei video non c'è arrivato Come cazzo farei a vedere le recipes sulla wikia? Se sto registrando Prima di avviare Unturned dovevi semplicemente cliccare su wiki Quando avvii Unturned Vabbè, però non importa Dettagli tecnici Perchè cazzo è finito il mod di Tomato? Eccolo qua Allora Output Wooden Spikes Stone Scrap Wire Pain support A noi ci resta Sleeping bag Cloth E lo scotch mi serve Due pezzi di scotch Ok Un attimo Un attimo per farmi il letto E poi facciamo... Quindi cerchiamo di dintorni due pezzi di scotch Un pezzo l'ho già trovato Buono Io vado a giocare qua nella gas station Nella Insomma, di qua andrà il meccanico della gas station Si è trovato Perfetto Troviamoci a casa Un attimo che vado a vedere anche qua dentro cosa c'è Ma hanno messo anche su questa città il gun store Me l'ho capito Gun store Sei in questa città? Non lo so, sai Non mi pare Fran cereal Come se c'è reali? Come se c'è reali? E ho trovato un altro multi corn Buono Insomma È andato male Piantalo Allora Allora, come si faceva la cassaforte? Un'altra domanda molto bella Innanzitutto deve avere Marks il costruttore a due punti Sei al massimo Barone Forse ci do io Forse Però può farlo Mi sto potenziando un po' ancora un pochino le skill ma non ho così Ok, sei al massimo il Craftman, non so come sono riuscito a farlo Buono Tantantantant, ti porta un altro scotch? Sì Aspetta Allora Poi vabbè quella lì Dove sei? Sono qui Tieni La Crafty Ma porco il cazzo Mi serve una clot Qualcun due clot Ho trovato Ci si vedeva anche un generatore Non sarebbe una brutta cosa Non sarebbe comodo effettivamente Un generatore Ma anche ho visto qualcosa Che non lo posso prendere Ok, adesso dovrei poter fare il Lipping Bag Yes, un altro potenziamento della casa è stato effettuato Quale? Guarda, sopa di te Ah, la scala E la volevo prendere, solamente non avevo lo spazio per prenderla A meno adesso possiamo salire Scusa, come? Dove l'hai messa la scala? Sul retro Ah Sì, allora la metto qua su sopra l'etto Tanto che c'è a posto E anche questo potenzialmente è stato fatto Perfetto Claim, giusto Allora Un'ottimo Scarp Metal Che sicuro ci serve Sembra le board O qualcosa Ah, ho trovato quello che cercavi invece Meglio ancora Cosa? Il generatore Il generatore Eh, lei ne servirà un po' ti Per questo ti dico di aivenirmi ad aiutare Ok, adesso arriva allora E mi sono rotto anche una gamba, tra l'altro Mona, Mona Eh, non so Salti da un tetto, non succede niente, salti dal tetto di quella casa e muori, tra un po' No, non mi sono fatto danno, però mi sono rotto una gamba Tanto io nuoto 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 Nuoti quando ci si tirerebbe il tuo aiuto Sto arrivando lì No, no, la vergogna Tanto riempio di nuovo A che serve i branch? Cosa sarebbero? Non ho presente Eh, tipo quei bastoni Le puff E' per fare le spe... eh, le speaky trap Mi pare Non zumba C'è nient'altro di utile? Zona? No? Eh? No, direi di no E' un dato di Relativamente utile da raccogliere Sì, ovviamente un po' spazio Che strano Eh Tun 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 Qua ci sono chiodi Board Ho trovato il dead wire Cosa serve il wire? Eh, non mi ricordo Il fin d'inferno Il fin d'inferno? Il fin d'inferno Intanto una cesta l'ho fatta Buono Dove l'hai messa? Eh, no, ognuno piazza la sua Sì, ma dove l'hai messa? Non l'ho piazzata ancora Allora dove sei? Sono qui all'albero, mi vedi? Ciao Salve Mi dia la cassa Dove piglia Prenda Wooden chest Ingegner Fantozzi Prenda quella parte Ingegner Fantozzi Ok, la vado a mettere vicino al mio letto Come vuoi Come vuoi Eh, ha 6 spazi eh Se no l'hanno modificata Dunque non sarà morto Non voglio che ha niente Ma posso sapere una cosa Perché stiamo facendo le ceste Se tanto ancora dobbiamo fare la casa? Eh, intanto è meglio averle Storage Nei, nice Ok, appoggiamo qua tutto quello che È di dubbio utilità al momento Ah, me ne sono fatto una anche per me Eeeh Ehm, poi ti tocca fare Tocca iniziare a costruire la casa Beh, abbiamo già costruito un bel po' di pezzi della casa Che ceste? Io dentro la cesta ci metterebbi Cosa ci metterebbi dentro la cesta? No, ho sbagliato a metterlo, nooo Fail Va bene Cos'altro abbiamo da fare? Eh, la casa in... Sì Mi pare che... Abbiamo altri materiali? Per fare qualcosa? Eh? Abbiamo materiali per fare qualcosa? Dobbiamo prendere il legno Qui Oppure cerchiamo ancora dei potenziamenti tipo le Spicky Trap E i muri per potenziarli ancora Ma dobbiamo cercarli in giro e non tanto craftarli Allora, aspetta un attimo Intanto metto il legno, la sega Quello che non mi serve nella mia cesta Vedere che potremmo anche intrompere qua l'episodio e continuare nella nostra ricerca di trappole per potenziare la casa, no? Beh, sì Ok, ragazzi Vi spoileriamo il nostro prossimo obiettivo del prossimo video Sarà, oltre quello di trovare roba varia ed eventuale, di fare uno degli achievement del gioco Cioè quello di oltrepassare il ponte Wow È un achievement pur sempre Poi non sappiamo cosa c'è oltre il ponte, magari c'è qualcosa di utile No? Io non ho capito, ma è un ponte reale o un ponte patatazzo? C'è, c'è il ponte Te lo farò vedere adesso Comunque sia, qui finisce questo episodio E ci vediamo in un prossimo episodio di MyGenChannel Ciao a tutti Bye bye